Buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda conferenza stampa di presentazione di giocatori di questa settimana. Abbiamo a presentarli il direttore dell'area tecnica Daniele Prodè, abbiamo Nicolas, Trust e Kong e Idete Ravest. Direttore, a lei la parola. Buonasera, vi stavo dicendo, iniziamo con la presentazione dove loro sono i protoconisti e sono a vostra completa disposizione. E tra oggi e domani così finiamo tutti i nuovi nostri arrivi e poi dopo ci facciamo una chiacchierata su quello che è un riepilogo di tutto il nostro mercato. Avete a vostra disposizione come volete. Ok, se vogliamo cominciare magari con una parola dei ragazzi. Nicolò. Buongiorno a tutti, volevo solo ringraziare l'opportunità e direi che sono molto contento di stare qua. con una squadra, con una società, con una sicurezza e una grande struttura. Ringrazio a tutti. William? Buongiorno a tutti. Il Palermo è italiano più presto, quindi prendo l'inglese da qui. Solo voglio dire che sono molto felice di essere qui. Penso che avrò la possibilità di presentare un po' meglio sul gioco. Grazie molto per avermi. Se sono contento di essere qui, spero di parlare al più presto italiano, ma penso che inizialmente la risposta dovrà darla sul campo. Buongiorno a tutti. Scusate il mio italiano. Sto imparando. Quindi parlerò in inglese e il mio traduratore qui dirà ciò che ho detto. Sì, sono molto felice di essere qui. Non posso aspettare per fare il mio debut per Udinese in Siria. Benissimo, allora direi che possiamo già iniziare con le domande. Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di debuttare con la maglia dell'Udinese. Udinese TV. Buonasera, ciao a tutti ragazzi. Una rapida domanda per ciascuno di voi. Iniziamo da Id e da William. Id, tu sei un terzino molto giovane, ma che ha tanta esperienza già. Hai giocato già quattro anni titolare in Olanda. Ti piace molto spingere? Hai segnato anche dei gol belli nelle divise. Come pensi di poterti integrare negli schemi di Mr. Velazquez? Sì, è vero, sono un terzino destro a cui piace il suo sistema. Mi piace molto attaccare, fortunatamente qui l'allenatore piace cominciare il gioco da dietro e in Olanda a noi piace molto giocare col pallone, quindi penso che mi troverò al meglio negli schemi del Mr. Ciao William. Tu sei arrivato l'ultimo giorno di mercato, sei stato subito gettato nella mischia dal Mr., comportandoti anche bene nella partita contro il Parma. Di te si è sempre detto che tu sei un leader calmo, che riesce sempre ad essere in controllo della partita. Come pensi di poter prendere per mano, di guidare la difesa dell'Udinese? Come pensi di poter prendere l'Udinese? 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 E' solo qui per contribuire e spero tutto ciò succederà naturalmente. Ora mi concentrò solo sul imparare l'Udinese? E' solo sul imparare l'Udinese? E' solo sul imparare l'Udinese? E' solo per capire cosa vuole il coach per me? Devo organizzare la difesa davanti a me. Sono una persona, un giocatore che parla molto. Ho sviluppato questa capacità in tutte le squadre che ho giocato e anche in nazionale. Penso che per svolgere questo ruolo debba anche imparare l'italiano. Sono appena arrivato, ma conto di impararlo presto. Ma penso che non sia solo una mia responsabilità, dal momento che nella mia squadra ci sono anche molti altri giocatori esperti. Penso che comunque questa mia abilità, questa mia capacità sarà una cosa naturale. Ancora una volta devo imparare l'italiano, abituarmi a conoscere i compagni e a fare quello che mi dice l'allenatore. Penso che appunto questa mia dote di leader verrà naturale. Ciao Nicolás. Tu sei un portiere importante, un portiere esperto, pur essendo ancora giovane, che ha già dimostrato tanto nel nostro campionato. Qual è il tuo obiettivo per questa stagione? Visto che arrivi, come dicevi anche tu prima, in una realtà importante come quella dell'Udinese e trovi anche al tuo fianco tutti i portieri di grandissimo livello. Sei tutti quanti molto bravi e molto forti. Sono arrivato all'Udinese e ero già contento che avevo pensato in questa società, questa struttura. giustamente sono venuto qua a imparare, c'è tanto da imparare. Poi soprattutto con i portieri di livello che ci sono, Simon, Musso, con l'allenatore di portiere che già nella società è venuto Andano, Vieci Carnese, Semeret. Quindi vengo qua a imparare, vengo qua a dare il mio contributo a questa società e sono molto contento veramente di stare qua e poter aiutare l'Udinese. Messaggero Veneto. Buongiorno. Visto che siete tutti e tre, fra virgolette, difensori, vi chiedo questa cosa qua. Nelle prime due partite ufficiali con il Benevento, che comunque è una squadra di categoria inferiore, con il Parma, l'Udinese ha subito quattro gol che sono un po' tantini. Come e dove dovete migliorare nella fase difensiva poi, perché non è che è solo il difensore, può esserci l'errore individuale ma c'è anche l'errore collettivo, quindi è tutta la squadra poi che deve venire chiamata in causa quando si prende gol. Ok, cominciamo da Nicolas. Penso che all'inizio del campionato non è che si guardano le squadre inferiori e le squadre di categoria. Quello che guarda è che è inizio di stagioni, quindi è vero che abbiamo cambiato anche tanto tra queste due partite, quindi vuol dire che ci stiamo trovando ancora. Quindi penso che sia normale così. Poi a Parma, che è una partita difficile, dove loro la prima partita in Serie A volevano dimostrare, non è stata facile per noi. Poi siamo riusciti a fare il pareggio. Penso che siamo in una crescita importante, inizio il campionato e dobbiamo pensare alla prossima partita. Sì, hai scusato per il primo gioco. Io non ero per l'experienza, quindi non posso commentare. L'ultimo gioco per Parma, io ho trovato un giorno con la squadra. Io ho provato un giorno con la squadra. Io ho cercato di sapere i miei amici, e quello che i coach e tutti aspettano di me. Io non vedo come un problema, come per Parma. Credo che abbiamo dimostrato nella seconda parte, come una squadra, anche in una squadra di 90 minuti. In un'altra parte, credo che abbiamo bisogno di migliorare, come la scuola che abbiamo conceduto. Il primo gioco che abbiamo conceduto, ma poi abbiamo bisogno come un'altra parte. Il secondo gioco che abbiamo conceduto, credo che abbiamo conceduto, è qualcosa che possiamo evitare. Credo che prima in la scuola, ciò come questo potrebbe succedere. non è un problema. Per quanto riguarda la partita con il Benevento in Coppa, io non ero ancora qui. Per la gara di campionato contro il Parma, avevo solo un allenamento alle spalle, quindi è stata anche un'occasione per cercare di conoscere i miei compagni, e di mettere in pratica quello che l'allenatore mi chiedeva. Ma non penso che i gol subiti per il momento siano un problema, perché nel secondo tempo contro il Parma siamo cresciuti, abbiamo dimostrato una crescita nell'arco dei 90 minuti. Certo, dobbiamo migliorare su diversi aspetti, basta vedere le azioni dei due gol che abbiamo subito. Certamente il subire gol è una responsabilità di tutta la squadra, ma siamo solo all'inizio della stagione. queste cose possono succedere, e dobbiamo certamente imparare dei nostri errori e migliorare. Idè? Sì, prima di tutto, ovviamente non è bene che ricevi 4 gol nei primi due match, ma come William ha detto, siamo nuovi per l'altro, e abbiamo bisogno di conoscere l'altro. E questo è quello che abbiamo bisogno di migliorare, e capire cosa aspettiamo da l'altro. Sì, credo che è bene. Sì, chiaramente non è positivo il fatto di aver già subito 4 gol, ma come ha detto William, siamo solo all'inizio, dobbiamo ancora conoscerci, dobbiamo migliorare e conoscerci a vicenda. M. Volevo anche fare una chiosa alla domanda, sono state anche due partite molto diverse, perché col Parma la squadra ha subito poche occasioni, rispetto al benedetto, quindi è giusto per precisare. sono state due partite completamente diverse. Volevo fare un'altra domanda, pensando soprattutto alla prossima partita, perché quando fai, l'ho chiesto già ieri ai vostri colleghi, quando fai un punto fuori casa, la prima giornata è sempre un risultato positivo, ma per dare valore a quel punto poi bisogna, nella partita in casa, sfruttare il fattore campo. Siccome negli ultimi anni allo Stadio Friuli abbiamo visto l'Udinese fare parecchia fatica, credo che sbloccarsi psicologicamente sarebbe molto molto importante domenica, riuscire a vincere subito la prima, e tenendo conto comunque del valore di un avversario importante. e, ovviamente, sarà un ottimo obiettivo. Sì, per me? Volevo fare un buon start? Volevo fare un buon start a casa. È importante, come hai detto, a casa abbiamo aspettato di prendere i punti, e ho aspettato anche da me e la squadra, che andiamo per la vina. Ma, come hai detto, l'ultimo gioco contro il Parma, quando ci siamo andati con un risultato 2-2 dopo aver saltato, credo che, come hai detto, era un risultato positivo. Ma, sì, credo che tutti accorgono che qui, a casa, contro il Sampdori, ci siamo giocati per vincere. Non stiamo giocando per un giro. Sì, ora per la prima casalinga è importante, appunto, iniziare bene e cominciare a prendere i primi veri punti. Certo, la partita di Parma, il pareggio per 2-2, considerando come si era messa la partita con il doppio svantaggio, possiamo dire che il pareggio è stato positivo, ma ora dovremo iniziare a giocare per vincere, chiaramente non per pareggiare. Nicolás, vuoi rispondere tu? Se giochiamo con quella mentalità del secondo tempo sicuramente possiamo fare una gran cosa. Poi la partita in casa nostra è un punto positivo per noi, sicuramente. Qua abbiamo con il nostro pubblico, i nostri tifosi, sicuramente riusciremo a fare bene. All'ultimo, credo, è stato un buon risultato per Parma. Come hai detto, dopo 2-0, siamo tornati a 2-2. All'ultimo, credo, è stato un buon risultato. Sondaglio, abbiamo iniziato a casa, ogni volta che giochiamo a casa dobbiamo giocare per il vincere. sicuramente è un buon risultato, ma siamo anche un buon team e speriamo di giocare a domenica. Sì, il pareggio di Parma è stato un pareggio positivo dopo il doppio svantaggio, come appena detto. Domenica esordiamo in casa per quanto riguarda il campionato ed è chiaro che qui allo Stadio Friuli dovremo giocare sempre per vincere. La partita non sarà semplice, ma siamo una buona squadra e domenica lo dimostreremo. Tutto inizia. Buongiorno per Id. Innanzitutto, benvenuto. Volevo chiederti, tu arrivi da un infortunio abbastanza pesante. Innanzitutto, quindi, come stai? E se il fatto di aver fatto una preparazione differenziata rispetto al resto del gruppo può aver rallentato un po' il tuo ambientamento? Sì, è vero. Io ero, è stato un attimo. Ho venuto da l'inizio, da l'inizio, quindi ho conosciuto la ragione. Sono già già quasi bene. Ho già già ho studiato il giugno alla fine di giugno. Sì, mi sento bene, mi sento anche bene nel team, non sono ancora 100% ma sono arrivato, mi sento bene. Udine ha il blog. Sì, grazie, come hai detto, ho giocato in diverse leggi, ho avuto un buon summer in Russia con Nigeria, quindi ho avuto un'esperienza di giocare contro diverse leggi e leggi, ma credo che Syrià è sicuramente la migliore liga che ho cominciato. Sì, è vero, ho giocato in diversi campionati, ho avuto anche un'estate abbastanza interessante, ho avuto anche un'estate abbastanza interessante. È vero, ho acquisito diverse esperienze, ho giocato in diversi campionati, quindi ho affrontato diversi avversari, ma penso che la Serie A sia finora il campionato migliore in cui abbia giocato. Voglio migliorare sia a livello personale, ma voglio anche aiutare la squadra a crescere. Penso che ci siano tutte le condizioni per farlo, sicuramente la Serie A per me sarà un'ottima esperienza e spero che potremo crescere tutti insieme. Sì, ho giocato solo in Holanda per ora, e credo che la Serie A sia una competizione molto tecnica, e in Holanda abbiamo cresciuto dalla nuova generazione, con le cose tattiche, quindi penso che sia buono per me e posso adattare velocemente. Sempre sull'avversario di domenica, se il mister vi ha già indicato quali possono essere i pericoli a livello sia collettivo che individuale, penso all'esperienza di Quagliarella, Alexi Ancto, che magari arriverà un po' col dente avvelenato. E poi volevo chiedere una cosa solo ai Kong, in un calcio molto tattico come quello italiano sono fondamentali i gol su pali inattiva, e mi pare che lui qualche golletto nella sua carriera l'abbia fatto, se anche da questo punto di vista pensa di poter essere un po' utile alla squadra, perché a livello di pali inattive, anche l'anno scorso, non è che l'Udinese abbia brillato molto. Abbiamo preso un po', però preferiamo che non ci fa prendere i gol che li faccia. Nicola. Sì, in questa settimana la Sampidoria è una squadra che palleggia tanto, che parte anche contro piede, il mister, ci abbiamo messo tanto in questa settimana di allenamenti duri, e sicuramente pensano alla partita di domenica che non sarà facile, cerchiamo di fare bene e di fare del nostro meglio. Individuali un po' tutti, come è Quagliarella, tutti i giocatori in Serie A, hanno delle caratteristiche un po' diverse, ma sono tutti pericolose. William? Sì, credo che devo dire con l'accordo. Credo che il mio primo e principale è di difendere certi piatti. Abbiamo abbastanza qualità nella nostra squadra per scoprire i gol. Ovviamente sono sempre felice quando posso contribuire. Credo che nel ultimo gioco ero abbastanza vicino, ma abbiamo avuto un penalti invece. Non è il mio primo e principale lavoro di scoprire i gol per l'Udinese, sono qui per stoppare, ma se posso scoprire un gol qui e qui e qui per decidere un gioco, sarei molto felice con questo, sì, ovviamente. Diciamo che il mio primo compito è quello di difendere sulle palle inattive e impedire agli altri di segnare. Penso che la squadra abbia sufficiente qualità invece per segnare gol. Qui certo sarò felice di contribuire se possibile, ci sono già andato vicino a Parma, ma appunto il mio primo compito è quello di impedire che gli avversari segnino. Travis? Sì, dobbiamo essere preparati per le 3KX corner, perché sono i momenti che possono cambiare un gioco. Può essere positivo per noi, ma anche negativo. Come dice William, siamo qui per difendere loro, perché quando non hai gol in gioco, ti prendi almeno. Sì, ci siamo preparati, ci prepariamo sempre molto sulle situazioni di palla inattiva, perché sono delle situazioni che possono essere decisive, sia in positivo che in negativo, ma come ha detto William, noi siamo qui per difendere su queste situazioni, perché già se non prendi gol, al limite pareggi. Ci siamo. Ci sono altre domande? Colleghi? Ok. Perché fa un caldo. Mi si è dato detto che forse quello che dovevo fare oggi lo facciamo domani per? Lo facciamo domani. Perché c'è là? Perché un cambio di orario anche per una questione logistica. Va benissimo, per me va bene. Ringrazio i miei calciatori che vanno fatto vedere che ormai abbiamo preso tutti i calciatori con una maturità, quando parlano sembrano già... Non ti ho capito mai. Libri stampati, però in positivo. Per questo mi piace. Grazie a tutti. Grazie.